ciao a tutti un saluto a tutti voi che mi ascoltate anche oggi e benvenuti a un nuovo episodio dell'italiano in podcast siamo alla puntata numero 166 di venerdì 19 marzo e come sempre io sono paolo e sono qui a farvi compagnia per qualche minuto e a raccontarvi qualche cosa di me della mia giornata e anche soprattutto dell'italia di quello che accade nel bel paese quello che i giornali dicono durante il giorno e quello che è possibile ascoltare un giro anche le notizie di cui si parla di più insomma che ultimamente purtroppo sono sempre le stesse ma lo scopo più importante però l'obiettivo più importante è quello di farvi allenare e di aiutarvi ad esercitare la vostra capacità di ascolto e di comprensione della mia lingua quindi anche se le notizie non sono troppo interessanti vabbè l'importante è che voi riusciate a seguirmi a capire quello che dico e a fare un po di esercizio certo è meglio se le cose che vi racconto sono un po interessanti questo lo so e spero che spero che sia così ma interessante forse questo venerdì non lo so sicuramente sono contento che sia venerdì che la settimana sia finita e che domani finalmente sia sabato perché sono davvero stanco oggi è stata una settimana un po piena ma soprattutto oggi è stata una giornata incredibilmente piena da quando mi sono alzato questa mattina credo di essermi fermato forse per circa 30 minuti al massimo il tempo di mangiare qualcosa oggi davvero fatto tantissime cose mi sembra quasi un miracolo essere arrivato a quest'ora e avere ancora la forza di registrare questo podcast e di parlare un po con voi come ho detto altre volte spero che la mia condizione di stanchezza non sia troppo troppo grave da rovinare anche questo appuntamento con voi spero davvero che sia ancora interessante e utile ascoltarmi anche oggi ci provo provo a fare un episodio lo stesso abbastanza utile per tutti voi anche se come vi ho detto devo ammettere che oggi oggi è dura ma è quasi finita per fortuna quindi fra poco probabilmente potrò crollare sul mio letto e svegliarmi domani mattina con una giornata un po più rilassante perché anche se sabato e non registrerò il podcast sarà comunque una giornata con qualche impegno non troppi ma qualche impegno sicuramente venerdì quindi come vi dicevo è venerdì che è iniziato abbastanza presto questa mattina con alcune piccole cose piccoli problemi che ho risolto online però dovevo fare un po di burocrazia un po di vita quotidiana dopodiché sono riuscito ad uscire per una brevissima passeggiata e ovviamente per comprare la mia colazione come sempre la zona è rossa e quindi non posso consumare quello che compro nel bar devo tornare a casa e quindi sono rientrato ho consumato la mia colazione e poi a un certo punto mi sono ricordato che dovevo uscire per vari motivi non per un solo motivo prima di tutto oggi è la festa del papà è il giorno di san giuseppe quindi tanti auguri a tutti quelli che sono padri tutti i papà che mi ascoltano e quindi ci sono dei dolci tradizionali che a me piace mangiare anche alla mia famiglia dovevo uscire anche per questo perché avevo dimenticato di comprarli quando ho preso le cose per fare colazione quindi dovevo tornare al mio bar che è anche una pasticceria e comprare queste famose zeppole di san giuseppe la festa del papà in italia si festeggia il giorno di san giuseppe che ovviamente è uno dei padri più importanti nella nostra cultura cattolica ovviamente ed è stato deciso proprio questo giorno in onore proprio del santo per dedicarlo ai padri a tutti i padri italiani san giuseppe era già il protettore dei papà italiani prima dell'inizio di questa tradizione della festa del papà quindi è stato naturale in italia in altri paesi cattolici scegliere questo giorno per onorare appunto la figura del padre per onorare la paternità quindi sono uscito per fare questa commissione comprare queste zeppole di san giuseppe che sono un dolce tipico di questo periodo sono di origine campana quindi della regione di napoli ma in tutto il sud sono molto popolari e credo anche nel nord sono di solito in due versioni a fritte oppure al forno e la ricetta tradizionale prevede un ripieno di crema pasticcera ma in realtà oggi è possibile trovarle con molti tipi di ripieni diversi a seconda del gusto del pasticcere io infatti ho preso dei gusti molto diversi da quello classico ne ho prese alcune al pistacchio con una crema di pistacchio alcune con una crema di cioccolato altre con una crema chantilly e infine anche con una crema scusate al gusto di cocco un gusto un po' particolare quindi non ho preso nessuna al gusto tradizionale le avevo mangiate domenica con la crema pasticcera normale quindi ho preferito utilizzare scegliere gusti un po' diversi più particolari diciamo ma questo giorno non è ovviamente una festa nel senso che non si lavora o non si va a scuola o tutti insomma sono a riposo è una celebrazione più che una festa quindi tutto è aperto tutto funziona e dovevo fare anche altri giri per qualche altro tipo di spesa come il macellaio o altre altre cose e dovevo arrivare in centro per andare in un ufficio a risolvere un piccolo problema anche questo di natura burocratica quindi buona parte della mattina in cui volevo correre in realtà è stato dedicato invece a fare questi giri quindi quando sono rientrato dovevo assolutamente scrivere qualcosa su questa giornata del papà perché è importante è una festa a cui gli italiani tengono quindi non potevo andare a correre perché prima volevo fare questa cosa insomma non volevo essere un po' più sereno e risolvere questo articolo questo esercizio ancora non avevo deciso che cosa esattamente fare ma non potevo uscire a correre con questo questo pensiero diciamo con questa preoccupazione quindi ho iniziato a scrivere un articolo che poi è diventato un esercizio quindi ho scritto un piccolo articolo con alcune informazioni più importanti e l'ho trasformato in un esercizio sulle preposizioni quando ho finito tutto questo era quasi ora di pranzo e ho portato qualche cosa da mangiare compresi i dolci a mio fratello che ancora è in quarantena a causa del covid non può uscire quindi devo pensare un po' io a rifornirlo di viveri e di cose da mangiare e quindi sono andato a trovare lui solo per portargli queste cose del cibo un po' migliore insomma e per vedere come sta ovviamente non mi trattengo molto stiamo e restiamo a una distanza di sicurezza con le mascherine non tocco quasi niente in casa sua questo per evitare ogni possibilità di contagio in questo momento sono l'unico della famiglia che ha libertà di movimento quindi non posso ammalarmi e quindi devo devo stare attento quindi dopo questa quest'altra commissione sono rientrato a casa e poi il tempo di completare la pagina dell'esercizio sul blog il tempo di mangiare qualcosa al volo in circa mezz'ora e poi di nuovo si ricomincia ho iniziato infatti una serie di lezioni che mi ha tenuto occupato tutto il pomeriggio solo con delle piccole pause di 30-40 minuti tra una lezione e un'altra e beh una pausa è stata di un'ora ma in realtà in questa pausa ho dovuto anche fare alcune cose quindi davvero ho avuto pochissimo tempo per recuperare energie ho bevuto molti caffè e ancora ne devo bere qualcuno prima di finire la giornata e quindi tutto il venerdì è andato è volato come diciamo noi cioè è passato molto velocemente ma senza nessuna pausa fino a poco fa ho potuto cenare alla fine di questa serie di lezioni mi sentivo anche un po' debole a dire la verità perché non ho mangiato molto durante la giornata e quindi tutto qui molto lavoro, molti impegni poco tempo per me non ho potuto correre mi è dispiaciuto quindi correrò domani sicuramente nel pomeriggio nella prima parte del pomeriggio ma per oggi sono arrivato al limite devo fare solo alcune ultime cose ma dopo di che scusate ovviamente riposerò andrò a dormire più presto dopo aver finito il podcast andrò direttamente a letto e per oggi basta così quindi finalmente arriva il fine settimana dopo una giornata davvero intensa e speriamo che sia un buon fine settimana per me ma anche per l'Italia e infatti anche per l'Italia non è facile non sono stati giorni molto buoni molto positivi e sicuramente abbiamo bisogno di ritrovare un po' di energie per affrontare queste queste ultime settimane questi ultimi mesi forse con questo problema covid che ormai è con noi da più di un anno ma vediamo un po' che cosa è successo e facciamo un po' il punto della situazione prima ovviamente vi invito tutti quanti a andare sul mio blog e provare questo esercizio che ho creato oggi per voi con qualche informazione utile sulla festa del papà e anche una buona occasione per esercitare le preposizioni semplici in alcuni casi voglio darvi un po' un aiuto c'è più di una scelta quindi in alcune parti dell'esercizio ci sono due possibilità non una sola possibilità ovviamente poi vi invito a consultare la soluzione ad ascoltare la soluzione in fondo alla pagina io registro sempre l'audio degli articoli e anche degli esercizi quindi se proprio non riuscite a trovare una soluzione ascoltate l'audio esercitate quindi l'ascolto e controllate anche tutte le versioni corrette dell'esercizio con questo è tutto per quanto riguarda me passiamo davvero adesso alle notizie dall'Italia e cominciamo con la politica e iniziamo in particolare dalla conferenza stampa di oggi del nostro primo ministro Mario Draghi bene Mario Draghi e il suo governo hanno approvato proprio oggi un nuovo decreto che prevede molti aiuti a aziende e cittadini in difficoltà a causa di questa grandissima crisi economica provocata dal covid-19 ci sono tante situazioni che il decreto affronta e ci sono tanti casi in cui è possibile chiedere un aiuto al governo con questo decreto bene ci sono addirittura 32 miliardi di euro a disposizione e questi soldi saranno usati per cercare di accompagnare le aziende e anche i cittadini privati come ho detto fuori da questa crisi quindi iniziare a dare un po' una spinta uno stimolo per far ripartire il paese diciamo per far ripartire la nazione è interessante la posizione di Mario Draghi sul patto di stabilità europeo lui ha detto che ovviamente dopo questo incredibile anno tutto probabilmente dovrà cambiare e deve essere un po' ripensato quindi i vecchi accordi forse non sono più quelli giusti bisogna trovare nuove soluzioni e fare un nuovo patto di stabilità su questo mi pare che Mario Draghi è stato molto chiaro sulla sua opinione quindi 32 miliardi 10 miliardi forse 11 miliardi potrebbero già arrivare nel mese di aprile e questo ovviamente sarebbe una bella iniezione di fiducia cioè sarebbe uno stimolo alla fiducia generale dei consumatori e del paese abbastanza importante ecco quindi questa è la notizia un po' più importante della giornata questo nuovo decreto per gli aiuti contro la crisi economica del covid-19 un'altra notizia importante di oggi che riguarda sempre la politica è questo omaggio del presidente della repubblica Mattarella a Marco Biaggi che 19 anni fa è stato ucciso dalle brigate russe quindi dal terrorismo lui era stato un consulente per il governo di quell'epoca per una importante riforma del mondo del lavoro ed è stato la vittima dell'ultimo mi pare attentato terroristico delle brigate rosse quindi questa riforma importante del lavoro è purtroppo costata la vita a quest'uomo che non aveva fatto nient'altro che consigliare dare dei consigli su come modificare le leggi che riguardano il mondo del lavoro in Italia e quindi il nostro presidente della repubblica oggi ha ricordato questa tragedia ha ricordato Marco Biaggi e ha anche ricordato che il popolo italiano rifiuta questi metodi quelli del terrorismo come modalità di lotta politica politica quindi queste due notizie erano quelle un po' più importanti oggi per quanto riguarda il mondo della politica mentre invece il bollettino del covid è sempre una delle notizie più importanti spesso è la notizia più importante e quindi è giusto che anche oggi vi dica un po' come è andata bene ci sono stati 25.735 nuovi casi purtroppo ancora 386 morti quindi ancora moltissimi l'Italia è sempre più rossa anche la Sardegna da bianca diventa di nuovo arancione quindi nemmeno più la Sardegna è al sicuro dall'aumento di casi di covid praticamente sono quasi tutte rosse le regioni italiane solo il Molise ritorna all'arancione e quindi si unisce alla Sardegna ma per il resto siamo in una situazione un po' più drammatica e in molte regioni i governatori pensano a regole ancora più severe di quelle proposte dal governo italiano quindi siamo nel bel mezzo di una nuova ondata speriamo che passi presto e speriamo che finalmente la vaccinazione acceleri di nuovo che ci siano più persone vaccinate ogni giorno la notizia di oggi è che AstraZeneca ritorna ad essere uno dei vaccini disponibili lo stesso Mario Draghi ha detto di farsi vaccinare con questo vaccino proprio per dare fiducia alle persone quindi la campagna di vaccinazione dovrebbe ricominciare a pieno ritmo cioè al massimo nei prossimi giorni intanto oggi siamo arrivati a 7 milioni 484.000 cittadini vaccinati con la prima dose con una dose almeno di cui 2.362.129 hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino siamo ancora lenti purtroppo è ancora un numero basso ci servono più persone vaccinate per cominciare a far diminuire i contagi e entrare in una situazione di maggiore serenità quindi speriamo bene speriamo che presto questa questa campagna di vaccinazione entri davvero in una fase molto rapida e molto veloce come è già successo in altri paesi un'altra piccola notizia per oggi è la nascita di questa divina commedia a misura di social c'è un'organizzazione italiana che si chiama setta dei poeti estinti che ha deciso di creare sui principali social un profilo per la divina commedia e quindi creare degli eventi online per spiegare meglio quest'opera per parlare di quest'opera e per far conoscere di più quest'opera speriamo che sia una iniziativa con un buon successo e per tutti quelli che sono interessati vi consiglio di cercare quindi su sui vari social come facebook instagram e altri questa divina commedia a misura di social e anche questa organizzazione setta dei poeti estinti che si occupa di questi profili online sono sicuro che troverete delle cose interessanti da ascoltare con questo è tutto quindi per le notizie finiamo qui non ci resta che passare alle nostre piccole rubriche per chiudere l'appuntamento quotidiano e settimanale a questo punto domani l'italiano in podcast non c'è come sapete e quindi questo è l'ultimo episodio della settimana ci risentiremo poi domenica sera ma per il momento finiamo questo appuntamento con la rubrica dei compleanni e degli anniversari prima di tutto ho già ricordato purtroppo l'uccisione di Marco Biaggi 19 anni fa questo è un anniversario ovviamente importante da ricordare per tanti motivi per quanto riguarda invece i compleanni di personaggi famosi oggi facciamo gli auguri a Carlo Mazzone un simpaticissimo e bravissimo allenatore di calcio italiano che oggi compie 84 anni un altro compleanno importante ma è più un anniversario in realtà è quello di Pino Daniele un grandissimo cantautore italiano che purtroppo è scomparso molto giovane qualche anno fa e che oggi avrebbe compiuto 66 anni la sua musica le sue canzoni sono molto popolari in Italia è sicuramente uno dei più amati musicisti di questa epoca ed è stato davvero un grande peccato che lui ci abbia lasciato insomma troppo presto forse prima di regalarci altre bellissime canzoni l'ultimo compleanno da ricordare oggi è quello di un'altra persona molto simpatica molto popolare e davvero divertente si tratta dell'attore Claudio Bisio lui è un attore è un cabarettista è un comico insomma ha fatto molti film molti programmi in tv molti spettacoli in teatro è davvero uno dei volti più amati della televisione italiana e oggi compie 64 anni quindi tanti auguri Claudio per il tuo compleanno e con lui è tutto con Claudio Bisio possiamo chiudere questo appuntamento di anniversari e compleanni e possiamo passare alla frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre l'aforisma di oggi è questo per comandare gli altri è necessario saper ingannare se stessi una frase molto interessante di un personaggio molto interessante non è più un contemporaneo non è non è un nostro contemporaneo e vi invito a scoprire il suo nome con lui con questo aforisma anzi chiudiamo l'episodio di oggi quindi come ho detto prima domani non ci sarà un nuovo episodio è sabato finalmente mi riposerò un po' mi godrò una bella serata serena e tranquilla mi piace fare il podcast però serve anche una piccola pausa durante la settimana per ricaricare le energie e quindi vi do l'appuntamento a domenica con il prossimo episodio per il momento vi auguro un buon fine settimana spero che anche per voi sia l'occasione per riposare vi saluto e ciao a tutti